Il cantiere Ranieri International conferma la sua grande crescita che negli anni è stata sempre costante quest'anno ha avuto una stagione importante molto intensa molto positiva e questo ci fa veramente un grande piacere un'azienda familiare che nel tempo è cresciuta che fa prodotti veramente di grandissima eccellenza con Salvatore Ranieri vogliamo parlare di quello che state presentando quest'anno al Salone Sì come di consueto noi ogni anno a Genova presentiamo le novità che poi nella stagione che appunto Genova da inizio faranno parte di quello che il cantiere propone al mercato quest'anno nello specifico abbiamo tre novità partendo dalla più piccola abbiamo il Cayman 21.0 Sport che è un gommone da sei metri e cinquanta molto ben studiato nei suoi spazi motorizzabile da 40 fino a 150 cavalli quindi un gommone che va benissimo anche senza patente nella divisione invece barche abbiamo la NEX 275 LX un sandec di nuova generazione con quattro posti letto e la 275 SL SL sta per Sport Luxury entrambe adottano la stessa carena quindi è una nuova linea che noi introduciamo all'interno del nostro range è una barca lunga fuori tutto 8 metri e 20 per 2 metri e 55 di larghezza quindi regolarmente carrellabile un open che strizza un occhio anche al concetto di barca americana una barca che sta risuotendo un ottimo risultato anche in Europa è molto importante per voi il concetto della sicurezza della stabilità di navigazione è anche molto la ricerca del dettaglio che piacciono molto sì quando noi decidiamo di progettare una nuova barca un nuovo gommone il nostro focus principale è innanzitutto la maggiore affidabilità che la barca il gommone dovrà poi avere quindi garantire al suo armatore e quindi l'utilizzo delle migliori materie prime dei migliori componenti attualmente in commercio a livello mondiale facciamo una ricerca molto approfondita di tutti i mercati essendo anche presenti non solo in Europa ma anche in paesi come gli Stati Uniti dove la nautica è molto sviluppata quindi il focus principale è affidabilità comfort di navigazione innovazione tecnologica anche nei processi produttivi e sicuramente il design è quello che ha il primo impatto sul cliente finale questi sono gli elementi che noi diamo come obiettivo principale in fase progettuale è una gamma molto ampia in entrambe le divisioni quindi da 19 fino a 37 piedi per le barche da 19 fino a 45 piedi per i gommoni qual è un cliente magari che arriva anche da qualche paese che negli ultimi anni si è così affacciato e che magari sta consolidando l'interesse verso il vostro brand essendo il nostro un prodotto non sicuramente low cost ma di alto livello cliente che è molto attento alle dinamiche non solo estetiche ma anche qualitative bene grazie di essere stato con noi grazie a voi di essere venuti come ogni anno a trovarci a salutarci e a riprendere i nostri prodotti per farli sempre di più conoscere anche i vostri telespettatori grazie a te grazie a tutti grazie a tutti